buon salve ragazzi un nuovo sole sorge su liberia oggi un sole che tipo se n'è andato era un regno unico è tornato e fa ma che cazzo è successo è un'insalata di m come ben potete vedere andalus spezzata in tre più qualcosina qua io giuro che il nome è regno Xenxir e poi ci sono i Balansia e poi il solito tizio che l'ha preso da noi allora facciamo andare avanti a velocità 3 bene fermiamo subito il gioco qual è il problema vabbè i poesani allora tecnicamente noi la nostra guerra l'abbiamo vinta la Toledus che ora abbiamo rinominato ma perché tutti hanno dei nomi per dire no qua si chiama Cordoba qua si chiama Calatraba è quello che vuoi ma i nostri quando li prendiamo li rinominiamo con nomi tipo Madinat Almluk oppure Mousset Batliyav stavamo anche stringere non lo so comunque il mio sono contento della vittoria lì a Toledo un problema tecnico tentico che abbiamo al momento però è che qualsiasi desiderio mio personale di espansione è fatto tramite l'utilizzo del prestigio cui noi ora difettiamo di un meno 16 direte sì ma si può recuperare certo ma puttana Eva quanto tempo per recuperarlo e intanto cosa volete che facciamo non possiamo ammazzare nessuno perché siamo extra oh mio dio siamo proprio tipo on scompassionate quando si venga ora mi scusi signora la dovrò uccidere ora la prego non soffra non dipende da me muore e poi stress perché ovviamente è quello e quindi sarà veramente un palo in quel posto devo trovare il modo adesso mi sono anche giocato con vabbè un pochino gli sto simpatico per via mi sa del mio passato no per niente più 7 in linea generale per tutta la fazienda o io devo riuscire se non con alfonso con qualcuno devo riuscire a a farmelo amico andare a fare carousing o quello che è però rimpinguiamo i soldi ci sono secondo me grazie anche a Toledo no Toledo non dà niente cosa che mi sto facendo guadagnare così tanto la mia capitale 3.4 sia lodato a forse anche no un cavolo aspettate e anche il fatto che siamo come lì gioco eccolo qua più due tax infatti dai tre che prendiamo più due più qualcosina arriviamo a quella cosa qua dio grazie per fortuna che è così e siamo anche degli sfigati non so perché mi ci ha messo qua ma ringraziamo nostro signore e sceico quello che è che è così ah sì il cavallo c'hai che anzi vogliamo perdere altro prestigio oppure abbiamo un 67% di farci del male mi sembra ottimo sembra ottimo perdere altro 35 prestigio non voglio farmi male appena arrivato il piano adesso è quello di rimpinguare sedare probabilmente i paesani che si arrabbieranno per quello qua rimpinguare il nostro il nostro prestigio magari fare io posso vivere signora ah mia moglie ho organizzato tutto il torneo il paesani sono felici i guerrieri sono felici tutti felici per un giorno mi devo solo posso solo sedermi ed essere contento oh questo giorno è nel nostro onore mia cara nostro onore ecco lì che iniziamo quindi aspettiamo un attimino di vedere come vanno le sito perché io penso che i fratelli qua non so se poi si stanno sul cazzo o meno ma alla svelta secondo me qualcuno tenterà di nuovo di espandersi probabilmente queste sono rivolte quello che è quindi vediamo dove si porta nel caso vada tutto bene io direi costruzione di edifici aspettiamo che il toledo riparta un attimino come macchina di big money pondero la possibilità di spostargli la capitale anche se spostandola lì è abbastanza sicuro che mi perdo stagione forestry anche questo è sicuro che mi perdo il granai qua prossima volta che crepo ma sono problemi del futuro oggi viviamo così la vita del nostro abd secondo questo sarà il nome della nostra abd secondo e qua e qua meglio se non ne parliamo per un po dai sto continuamente lavorando per amicizia di alfonso ok non giudicatemi ma questo è l'unico regnante da cui da cristiano con cui una possibilità e per amicizia ma guardate questo fuoco qui comunque c'è potrebbe anche farseli fare cucire un po più larghi i vestiti deve essere proprio così aderente ma sarebbe piacere se tu mi rilascessi il mio amico sul liman così potremmo ma sì va bene questo qua chi cazzo lo conosce non sapevo neanche fosse in prigione e progrediamo in questo befriend che comunque è bello alto e ragazzi abbiamo vedete un 90 per cento il nostro caro amico alfonso chiamiamolo già caro amico comunque a parte il fatto che si sono appena spawnati dei ribelli per via del fatto che si vogliono ribellare al nostro al nostro regnante che ha meno possedimenti di me di questo posto qua ma vabbè tant'è ho dato l'ordine della costruzione delle le mansion che danno più 07 quando avremo finito la sito quindi secondo me sono soldi ben spesi ancora una volta alziamo i soldati qua per andare a scherzare il nemico velocemente palle non avevo voglia però non ha senso che i ribelli anche perché non so che effetto hanno i ribelli contro il nostro mozarabic populist ecco tra l'altro mi sa che al volo è meglio se li ribalto subito prima che al mio caro lige venga in mente di dire ah ma si cediamo alla rivolta la famiglia di famiglia eliminare prima che succeda qualcosa quella cos'è che abbiamo all'evento quello dei soldati in marcia che sono stanchi e si accampano vicino a un castello abbandonato nel poco lontano lì è dove faremo il nostro campo di chiaro il fatto è che questo qua ci sono due cose possiamo entrare e troviamo dei soldi oppure proviamo i tesori oppure ma si proviamolo a volte c'è proprio una sfiga sono sicuro che troveremo qualcosa di buono lì dentro oscurità vuotezza ed isolazione regnano interno del castello e tutte le tracce di vita sono scomparse guardiamo in giro ragazzi vediamo se facciamo accattare o 105 o 30 105 monete abbiamo trovato è nata gada oh festeggiamo no aspetta festeggiamo sono tutte femmine cioè lei è lei femmina vabbè festeggiamo per ora e alla sia bello bravo stavolta magicamente zero figli maschi e se servono figli maschi e neanche uno grande alla allora dopo le prime lettere di conoscenza con alfonso finalmente abbiamo trovato un interesse comune che ovviamente la strategia militare prendiamo interesse comune quindi quello oppure sì 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 da interesse comune io e lui siamo due grandi guerrieri più lui che io la bambina sta male oh no poverino non piangere intanto che non piangi per piacere moglie vieni qua che o io ho distrutto la cosa ah non sono io che la chiudo però ovviamente oh eccolo qua buono così abbiamo risolto anche questo problema è vero che li avevo assunti non mi ricordavo più ecco perché abbiamo tutti uh abbiamo pochi soldati in vino veritas allora questo potrebbe essere in una brutta condizione stanno iniziando ad arrivare però i soldi da toledo quindi aspettiamo e speriamo che il nostro generale tra l'altro il nostro generale è un qualcosina buono perché li ho messi super pietaio 14 con i talenti però noi ho fatto una cazzata a prendere civarli lo switcherò e prenderò strategy a un certo punto per il semplice fatto che voglio più marshal perché a 13 è veramente poco e appena arriviamo a hard rule siamo sicuri che le faction non non sitono perfettamente ma in più mi pare fosse sempre qua sempre su hard rule no era questo qua che ho appena preso quello che incrementa il control del nostro marisciallo del 20% e speriamo lavori bene successo signori dopo esser venuto a sapere che il re alfonso una virgolettina sarda questo alfonso comunque sarebbe andato a un ballo in oviedo ho deciso di prendere sui miei due e andare anch'io alla festa assieme a lui il ballo è stato squisito alfonso è stato un gran danciatore non si può dire niente e alla fine abbiamo parlato siamo diventati amici che bella giornata questo qua dovrebbe darmi è catalista smittricchino alfonso become a friends no friends non lover ecco ok più 3 e tra l'altro ne avevo triggerata un'altra io sempre più 3 qua quindi ragazzi siamo un più 6 ora che siamo friends alfonso alfonso che ne dici se alfonso al re di asa best friend no la mia vita non ha più senso ora qual è il tuo best friend l'amica mio prigioniero sapete non ho idea chi è il suo best friend comunque va bene va bene accetto di avere il secondo posto ma invitiamolo a una fist con noi o così facciamo la fist spendo un po' di soldi ma mi scende lo stress guadagniamo punti in conciliazione e guadagniamo prestigio invite to fist voglio vedere la prima volta che lo faccio cambierà un cazzo dal solito probabilmente ma tant'è non mi pare mi si è salito il prestigio però mi ha dato giù lo stress eccolo qua più 5 sempre per la fase di conciliazione benvenuto amico eccolo qua eccolo qua in effetti ora che ci penso uno tutte le volte che ho stanno a festa potrebbe invitare il proprio amico dell'altra a religione e quindi spammare punti per la conciliazione lo sapevo che andava di merda e adesso dovrò spendere un buato di soldi vero? spendo coso però almeno prendono every guest prende più di opinione e più prestigio per le cose se no qua perderei prestigio e guadagnare i soldi no spendiamo anche questi altri 55 è quello che è a fin fine abbiamo tirato su 11 punti per conciliazione il che ci porta a solo una settantina di punti di differenza con quello lì e in più abbiamo anche reinvigorito in friendship oh huge boost a tutti e due no a me a lui si attacca bene 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 allora parte del piano ragazzi è stata fatta e ora abbiamo un po' di prestige anche se forse la festa deve ancora finire perché non mi sembra oh eccola lì eccola qua until next time ora abbiamo il prestigio per wager un po' di some wars tu qualcuno l'unico problem è che con 1500 uomini dove cazzo vuoi andare? mi chiedo allora tecnicamente questo ci porterà abbastanza soldini un 07 non andrà mai a coprire il p2 che prendiamo adesso solo per il fatto di essere nel concilio del nostro league dobbiamo trovare un modo per fare i big money e penso che sviluppare Toledo al fin fine Toledo alle lunghe sarà sicuramente meglio allora a me quella roba qua non ha mai fatto un gran piacere civari damage eccetera eccetera quindi lo cambierò alla fin fine con military camps e poi ci voglio sbattere dentro anche qui le mura anche se Toledo ha già queste mura sono pavili queste mura? no però danno già un fort level più 2 quindi prima di fare le mura farei anche i granai pure qua e poi spostiamo la capitale lì fino a quando non riusciremo ad arrivare a Cordoba il che mi fa pensare che allora a questo punto dovremmo entrare un po' in Al-Andalus ma questo vorrebbe dire andare in guerra con questo che comunque sia sta vincendo una guerra? contro chi? no sta difendendo ah di Solution War qualcuno dentro di lui sta facendo casino e lui sta vincendo 1600 uomini scusatemi eh abbiamo più uomini di lui se tiro su tutte le alleanze e prendersi Malaga o addirittura Cordoba eh se mi prendo Cordoba Cordoba gli ha costruito dentro qualcosa questo uomo qua oppure è stronzo come penso io mi fa il per piacere vedere vedere il tasto per switchare la situa ecco qua ci ha costruito le mura il granaio e il mansion proprio quello che Fidec però ha uno slot in meno rispetto a Toledo cioè vi immaginate questo qua ne ha quattro normali e questo ne ha uno due no tre quattro normali cos'è che è la differenza perché mi sembra più grosso Toledo non so impressione mia io questo penso sia il piano nel breve termine adesso mi aggiusto cerco di capire quale guerra sia possibile perché comunque lui adesso è anche in guerra il fatto è questo se lui chiama dentro fratelli o amici o parenti qua oppure l'altra alternativa è quella di guardare sempre all'interno del nostro regno vabbè chiamo il nostro regno ma quello che è e andare a prendersi quella parte qua che però lì non c'è niente cioè letteralmente non stiamo non stiamo combinando un cazzo situazione da ponderare come al solito ragazzi ponderazione allora qua dobbiamo fare il colpo gobbo perché questo sarebbe se la sfiga non fosse con me forever ovunque mi muovo lui qua avrebbe avuto un figlio maschio o io avrei avuto un figlio maschio e avremmo potuto far sposare le tizie e i tizi e quindi avere un'alleanza probabilmente di qualche tipo e sarebbe venuta stracomoda ma no no allora lui qua è in una posizione dove secondo me non si può difendere tanto io posso chiamare i miei 80 monete ne guadagna meno di me per via della rivolta di tutto quello che vuoi io invece ne guadagno un boato di più in più se chiamo i miei alleati e prendo di mercenari è sicuro che lo sfondiamo stavo guardando che però per me per come sono messo posso farselo con quei canti con quei canti e prendere un canti di merda per 75 che è una possibilità ok prendo che cavolo è prendo che adesso curtuba non riesco neanche a trovarla qua in mezzo ma prima o poi la salterà fuori quello che è e chiuderla lì eccola qua paghiamo 75 ce la prendiamo questa roba qua quando è full cioè attiva ti dà 8 monete a giro cioè sono corduba è tipo la mecca della spagna e è figo oppure possiamo andare con il clash che come vedete 2004 no però si possono togliere le parti che non vogliamo di tutta sta faccenda qua magari malagon posso anche tenerla quella in alto la tolgo l'abla la tolgo Alarcos lo lascio lo tolgo qua c'è quello lì questa parte qui la tolgo tolgo a vila e come vedete prendo queste tre regioni per un 540 alla fin fine sarebbe è un bel colpaccio no penso puttana sarebbe veramente un bel colpaccio però qua stiamo parlando di fare guerra al fratello del nostro sultano e e a un re e a un sultano oh mi è caduto il dizio no oh mio dio oh my god what I have done santo che la sia con me cold war dei miei alleati chiamiamo gli house member non mi costa qualcosa vero sta roba qua non penso di no questo qua è un vigliacco che levati ma va bene ma va bene va bene excellent questo è arrivato buono porterà anche i suoi 700 immagino quanti ne hai 400 sono sufficienti andiamo andiamo sulla capitale andiamo sulla capitale a velocità 4 1.700 questa spesa guadagno 0.6 ma la spesa dei mercenari la posso fare guadagnare 0.6 è veramente buono qualcuno qua ha già assunto se avessi avuto il culo ma manca ancora un pochino di arrivare eh no dovrei arrivare qua per avere il meno 30 ha 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 e mi attacco a questa ceppa allora mercenari chi prendiamo ragazzi guerre qui mi sembra massimo sono colline hills e quant'altro quindi io direi la andalusian band andiamo con gli footmen che fanno tutto e non non si lamentano niente avrei voluto gli arcieri sinceramente però nada de nada oppure se fosse stato schirmisher cioè questi qua e arcieri avrei preso questi qua però nada de nada quindi andiamo andalusian band fai schifo questo è 19 mi piaceva più andalusian band ma prendiamo gli slouterers che fa molto più cattivo andate anche voi su cordoba e vediamo di prenderci sto posto vediamo di tirare fuori qualche bel figlio del sultano che tratteremo con rispetto oh guardate che figata l'armatura di chi comanda qua guardate che uomo bellissima bella start qua è bella quando diamo cesare qualche di cesare quello la ha deciso con i suoi 400 stralà isolato e che cosa vuoi mai che accada cosa vuoi mai che accada andiamo a vedere zoomiamo bene e vediamo cosa vuoi mai che accada ecco qua guardala guardala guardali eh eh buongiorno amico del jaguaros potresti venire qui dove sono io effa lui non credo lo farò io penso che scapperò fino a che cazzo ne sono le storie mi sembra un'ottima strategia potresti venire qui no cioè mi prendi per il culo e loro decidono fa ma in quel posto lì non li attaccheremo cosa avrà pensato lì a lì per prendere una decisione quella cioè sia per sentirsi sicuro in quel punto che quella dire siamo dieci volte più di loro non andiamo qual è stata la scelta non comprendo io non comprendo questa decisione qua a zero proprio intanto noi a breve ci inchiappettiamo la nostra bellissima cordoba che poi è la cosa principale adesso appena apriamo cordoba il nostro re dirà ah il progetto cordoba marrone che bello lugarmine dammelo a me e io affinno mi lasci stare e invece allora oltre a essere mi inchiappettato un artefatto che eccolo qua io non so me lo metto subito stress meno due wow abbiamo preso il nostro caro osticciolo qua eh adesso qua ragazzi owner slightly in depth cioè mi chiedo come forse non paga le guardie ecco questo sarà la cosa noi cerchiamo di tornare al nostro territorio e andare a salvare ok 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 hanno interrotto l'assedio penso vadano per le montagne vanno per vanno sì per le montagne rimpinguiamo un attimo i nostri uomini mentre loro fanno festa sulle montagne e poi andiamo per l'ultima regione che dobbiamo conquistare che è Malaga per i nostri poi ovviamente forse ci sarà da andare più su però i nostri tre posti li prendiamo così attenzione forse là è con noi e mentre tutti girano sediano tranne questi becilli qua che sono messi le montagne non posso prendere il tizio qua sopra ha dichiarato guerra a Cordoba non lo so quindi lui qua ha deciso di smettere cesare i 400 e lasciarli vivere e noi siamo veramente contenti oh attenzione ah no niente solo un gioco di scacchi pensavo fosse qualcosa con il re invece niente il re è troppo debole sì sì il re è troppo debole da mio prestigio la mia gloria conosciuta era un piccolo evento di scacchi alla fine hanno deciso di andare su e adesso hanno deciso di non andare giù possiamo salutare con la manina con i 400 la sotto abbandonerò la sedia per andare a salvarli io spero loro scappino scapperete vero ragazzi non mi farete bestemmiare tutto il tempo ti prego ok già abbiamo fatto dio grazie mia moglie è incinta che alla sia dio si intende alla ovviamente ti prego oh ah ah il mio re ha dichiarato guerra a quell'altro re là in alto quindi è una doppia espansione tecnicamente il mio re il mio sultano eh ma i 400 là se ne vanno non si stanno muovendo hanno deciso che la difesa in montagna figlio di puttana l'abbiamo presa qua la città ma guarda un po' eh adesso tanto arriveremo là non ci arriveremo là quelli vengono schiacciati come è vero il nostro signore che esiste bene bene ma non benissimo a questo punto tanto vale andare per l'ultima situa là in alto e qua non mi spiego perché ho letto ma ha già innato con noi senza no va bene siamo tornati a solo 57 però abbiamo tutti i territori che ci servono per questa faccenda forse ha già innato di qua ah infatti ha già innato di qua con gli attaccanti brutta storia amico mio brutta storia anche per il cavallo oh si un altro amico che bello io e gli eri qui adesso non so allora vanno per cordoba no 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 vai là muoviamoci ma tu non vai per cordoba vai via da cordoba show da cordoba noi ci basta anche tenere solo queste tre zone ecco vai fra i coglioni per piacere ah la bambina è più malata tra l'altro un figlio maschio ancora niente non si vede dobbiamo tenere le nostre zone là sotto il punteggio come vedete cosa stanno facendo quelli là a sinistra sarah may andagon del mus ti prego scappa cosa stai facendo vieni dove sono io eh vabbè my mother ah wait my mother ma si ma che cosa può avere cosa può mi scegliere mia madre ma poi la corte ma si dai accettiamo aspetto che forse devo guardare i tratti di mia madre prima di scegliere quella roba lì dove stai andando te con i tuoi 1600 uomini bravo è fuori i coglioni ci serve un altro posto intanto ma più che altro ci serve di tenerli lontani da quello che è nostro andiamo fin lì bravi con quei 140 che ci seguite finalmente faction creata contro di me batalawan under siege facciamogli perdere tempo per ora mondi renato praise della non è che sia niente di che però lasciamolo così scegliamo un bel nome della no yunus yunus o marwan questi sono i nomi della nostra dinastia e marwan allora sia dai cambiamogli nomi invece ti quello che era che mi sono già dimenticato allora sembra che stiamo vincendo tutte e due le guerre là sotto siamo all'80% con l'una e 82 con l'altra qua la mia è una fake ragazzi questa qui chiamassi totalmente fake là non so che cazzo stia succedendo ma no bueno ora io faccio finta di andare là a difendere questo qua si caga in mano scappa e noi prendiamo altro tempo non voglio arrivare allo scontro servono le truppe per la guerra là in alto che però finirà molto di merda a breve a quanto pare perché vedo che l'esercito del mio non so sembrano tutti contro di me qua non sto forse capendo io questa guerra attaccante è ah questo è sceso con il nostro scusate ma guardateli in faccia se io mi faccio capire chi è cosa sarà mica colpa mia sarà mica colpa mia abbiamo vinto quella guerra là vediamo ce l'ha vinto il nostro sultano e infatti il nostro regno si allarga un pezzettino vediamo se da più lontano ecco xenixir arriva fino là in fondo a breve avrà una bella sorpresa quello là 96 ragazzi 97 98 99 pensavo fosse un'altra storia la guerra invece è buono finisce così però quello là poi ce la come per qualche motivo io non lo so però sapete cosa vi dico non è un mio problema è un forzo di manza oh yeah mmm si fidek vacca cane che gusto puttana Eva guardate qua che cazzo abbiamo portato a casa guardate qua che cazzo abbiamo portato a casa e sapete che roba tuo figlio mio figlio sposerà tua figlia e forever saremo forever non so che cazzo vuol dire quello che ho detto ma dai piacere la più piccola che hai va bene nessuno dico infanta gnugna alfones baleschita no perché meno 9 perché meno 9 se fossi re non faresti così vero ma poi la tua prima figlia si chiama davvero belaschita tanisha oh gnari bella puntata è successo un casino qua struggle probabilmente è tutta colpa mia vero colpa mia ma anche colpa di altri qua l'hostility phase è andata su ho una paura andare a vedere però serviva cioè ci serviva cordoba non è che ci sono tanti peni su cui di squisire va bene è così che doveva andare ora il tizio là ha preso un po' il controllo vediamo quanto siamo quasi ha quasi fatto siamo po' guadagnere solo 0,3 ma a breve guadagneremo un bel po' di più ora io direi che ci dobbiamo stabilizzare e probabilmente in futuro insorgere per creare il nostro regno in questo mondo frammentato un saluto alla prossima puntata